Benvenuti nel canale delle notizie del Napoli. Se sei un vero tifoso dell'Azzurro e vuoi rimanere aggiornato con le ultime notizie e analisi sulla squadra di calcio italiana, non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di lasciare un mi piace per supportare i contenuti. Il centrocampista del Napoli Piotr Zilinski firmerà nei prossimi due giorni un precontratto con l'Inter. Lo riferisce l'edizione cartacea odierna del Corriere dello Sport di Roma, tramite Finter News. Ieri, alla vigilia della vittoria dell'Inter in Serie sulla Juventus nel derby d'Italia, è stato chiesto all'amministratore delegato nell'Azzurro Beppe Marotta se il club avesse preso Di Mira Zilinski. La risposta dell'esecutivo non è stata del tutto semplice. Ma allo stesso tempo non ha certo negato il suo interesse, citando Zilinski come l'opportunità di mercato. E secondo il Corriere la realtà è che dietro le quinte è tutto pronto perché il polacco possa affidare il suo futuro all'Inter. La trattativa tra Inter e Zilinski va avanti da settimane. Niente è ancora diventato ufficiale. Ma entro un giorno o due le cose cambieranno. Piotr Zilinski firmerà il precontratto nei prossimi giorni. Secondo il Corriere la firma dovrebbe arrivare nelle prossime 48 ore circa. Inter e Zilinski hanno trovato l'accordo totale sui termini personali. Il centrocampista ex-udinese ed Empoli firmerà quindi a breve un precontratto. Dall'inizio di gennaio Zilinski è libero di trattare apertamente con club diversi dal Napoli per un trasferimento estivo. Il suo contratto con la partenopei scade a fine giugno. L'Inter ha già comunicato ufficialmente a Napoli che c'è l'accordo con Zilinski e intende ingaggiare il giocatore 29enne. Il Corriere rileva che Zilinski rifiuta un'offerta di prolungamento contrattuale dei campioni d'Italia in carica da 5 milioni di euro netti a stagione. Il Napoli ha messo sul tavolo questa offerta come ultimo disperato tentativo di convincere il polacco dopo che aveva rifiutato le offerte iniziali. Ma a quel punto Zilinski evidentemente aveva già preso la sua decisione. Il nazionale polacco si trasferirà all'Inter. C'era altro interesse, sia in Serie A che in altri campionati. Ma il 29enne vuole l'Inter. Zilinski guadagnerà 4,5 milioni di euro netti a stagione in Nerazzurro, meno dell'offerta finale del Napoli. Riceverà però un bonus alla firma, oltre ad avere il controllo dei suoi diritti d'immagine.